E salve a tutti e bentornati con Pokémon Rumble, parte 24, oggi faremo la Battle Royale speciale del grado B. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine, restano solamente dopo questa il grado A e il grado S, in quanto il Lex non lo faccio. I boss sono Rampardos, Bastiodon, che sono i Pokémon fossili, Magmortar ed Electriver, ok, non so cosa c'entrino gli ultimi due, ma ci sono, quindi... Pazienza! Allora, abbiamo Gliscor, che è molto forte, ha delle mosse veramente buone, tra cui Gelodenti, ci potrà essere molto utile. Ora, Magmortar ed Electriver non sono difficilissimi da sconfiggere, me lo ricordo. La difficoltà sta nello sconfiggere Rampardos e Bastiodon, che hanno una miriade di HP, e io mi sto buttando nella mischia senza timore, e infatti mi stanno quasi per uccidere Gliscor, fantastico, è già a metà vita, e io continuo a fare lo scemo, perfetto. Devo stare attento, cavolo, vado a sbattere contro le corde, ma se sbatto contro le corde, sì, perdo vita, ok. Sì, certo, non sapevo questa cosa, o almeno non me la ricordavo. A parte Gliscor comunque ho anche altri Pokémon che sono semi-decenti, ricordiamo che ho Scyther, che è buono, poi ho anche un Hunter, che ho preso nella Torre Infinito, che è forte. Pokémon Cranioso, Rampardos, e poi c'è anche Bastiodon. Bastiodon, ok, bene, i primi due sono qui. Ora, non so se dovrei prima concentrarmi su di loro, oppure lasciare che arrivino tutti, ma forse è meglio lasciare che arrivino tutti, così si scannano un po' tra di loro, io poi ci vado, e li faccio fuori, do il colpo di grazia, anche se per Bastiodon e Rampardos il colpo di grazia è il cavolo, perché hanno troppi, troppi, troppi HP, quindi... Ok, ho congelato Bastiodon, quindi è il momento di attaccarlo, dai! Dai, 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 se mi colpisce... Due mosse mi fanno fuori, comunque, non c'è tanto da... da fare i calcoli. Ah, cavolo! Sono andato, sono andato, ecco lo sapevo, mi ha preso per un pelo quel dannatissimo Rampardos. Vai, Hunter. Con Sbigo Attacco dovrei andare bene, poi da lontano, se voglio, e se mi serve, ho Ombra Notturna, quindi buono. Non è ancora andato KO Bastiodon, dopo tutti quei gelodenti che gli ho fatto, è ancora in piedi, perfetto. Continuiamo a guadagnare tempo, perché siamo appena sopra la soglia dei 100 secondi, mi serve tempo, mi serve tempo, mi serve tempo... Aia! Porca miseria! Muori, muori, muori! Non muore! Vedete che non vuole morire Bastiodon. Intanto ci prendiamo un po' di orologi, lì c'è un altro. Il dannato Bastiodon che non vuole morire! Oh, finalmente! Ed ecco che arrivano Pokémon Esplosivo, Magmortar e Pokémon Saetta. Electrivet. Intanto io prendo questi tre orologi. Ciao ciao Glemiao! Altri dieci Pokémon da sconfiggere, dai, possiamo farcelo. Ah! Cavolo! Dai, dai, dai! Oddio, adesso devo stare attento, perché sennò è la fine. Ombra notturna si può rivelare utile adesso. Però devo stare comunque attento. Dai! Dai! Dai, Hunter, ce la pu fare. Oddio, per quanto poco non mi ha preso la mossa. No! Andiamo! Ok, abbiamo l'ultimo Pokémon. Hunchcrow potrebbe essere buono, ma lui ha Electrivert, quindi col cavolo. Krenidos! Che ha botte in testa! Vai Krenidos, alla grande. Tentenna, tentenna! Inoltre le mosse di Electrivert non dovrebbero fargli molto, quindi è perfetto. Devo solo stare attento al lancio a fiamme di Magmortar, che ora non sarà più un problema. Dai, con botte in testa. Tentenna, ok. Dai, dai! Un altro colpo. Un altro colpo. E ce l'abbiamo fatta! E accediamo finalmente al grado A speciale. Me la sto cavando anche fin troppo bene. Almeno da quelle che erano le mie aspettative. Comunque ci sarà il tempo per avere Battle Royale dove... Devo proprio arrivarci sclerato al massimo. Dunque, abbiamo vinto. La chiavetta misteriosa è stata potenziata. Adesso c'è il trampolancio per il grado A speciale. Quindi andiamo. Sono rimaste praticamente adesso otto parti da fare, quindi... Ci siamo. Siamo quasi alla fine. Ancora otto parti. Ancora due Battle Royale. Hai fatto un altro passo verso la vittoria finale. E per questa parte ci salutiamo qui nel grado A. Ci diamo appuntamento alla prossima parte. Bye bye!